polifonico 2016 siamo arrivati al giorno venerdì 26 la categoria numero 3 che la musica sacra al mattino alla badia alle 10 ma la giornata inizia come tutte le mattine alle 9 con buongiorno polifonico questa volta con Claudio Santori che ci 500 ai nostri giorni poi ci spostiamo tutti alla badia con i 9 cori partecipanti e un concerto straordinario di musica sacra alle 14 e 30 avremo un'intervista come tutti i giorni a uno dei giurati protagonisti del nostro concorso alle 15 riprende il concorso con la musica monografica con delle monografie si tratta della categoria numero 4 una categoria importante del nostro concorso alle 18 e 15 concerto del coro maschile vox cordis e omaggio dell'associazione coria toscana a fosco corti ea 30 anni di distanza dalla scomparsa del grande maestro retino la serata invece prosegue poi alla scariata del duomo con un evento atteso da tutti gli aretini che è il festival di canto popolare quest'anno abbiamo cinque cori partecipanti più un coro ospite della bulgaria il cosmic voices la serata come tutte le serate del concorso polifonico è a ingresso gratuito tutto si chiude con una specialissima e straordinaria serata fado di musica fado alla fondazione nel giardino alle 23 per polifonico off